il Signore mi ha messo nel cuore stamattina di di parlarvi un po' di quello che è l'amore che è la chiave un po' di tutto per arrivare a quello che il Signore vuole da noi. L'amore è una cosa importante l'amore è una cosa bellissima e come abbiamo cantato prima l'amore eterno l'amore del Signore vive in noi però il Signore vuole essere ricambiato quindi vorrei che vi alzasse voglio leggere un versetto in prima Giovanni 4.11 se Dio ci ha tanti amati anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Amen. Dunque il fine primario della nostra vita è quello di nel campo lavorativo nel campo affettivo è quello sempre di migliorare di andare avanti portare un progresso sia nella nella nostra vita per avere qualcosa sempre di più dimenticandoci quello che è l'aspetto principale l'aspetto principale non è questo quello di migliorare avere un buon posto una buona macchina una bella famiglia dei figli che poi finiscono finiamo noi di andare avanti pensiamo ai nostri figli un posto di lavoro o un qualcos'altro ma la cosa importante è amarci gli uni gli altri è molto difficile molto difficile perché noi come esseri umani siamo egoisti e quindi pensiamo prima a noi stessi se tutte le cose nostre vanno bene se tutte le cose nostre vanno per il verso giusto noi col passato del tempo ci possiamo dedicare anche a qualcun altro ma invece non è così il vero il vero scopo della nostra vita qui terrena è quella di amarci gli uni gli altri aiutarci gli uni gli altri e quando il fratello la sorella o chi per essa ha bisogno dedicarci anima e corpo col corpo col fratello con la sorella non metterlo da parte solo quando abbiamo voglia quando c'è uno scopo il signore ci insegna che non c'è nessuno scopo noi dobbiamo amare semplicemente non per quello che il fratello può essere per quello che il fratello ti può dare no tu lo devi amare anche se il fratello principalmente non ti dà niente o la sorella non ti dà niente tu lo devi amare di più perché il signore nello stesso tempo ci ha amato a noi perché noi non siamo nessuno e lui ci ha amato allo stesso modo ci amo con questa forza con questa intensità con questo amore noi dobbiamo essere molto simili a lui e desidera che noi nel nostro modo innaturale in quello che siamo dobbiamo essere più generosi dobbiamo essere più amorevoli verso gli altri l'amore vero è concentrato nel modo in cui io posso essere d'aiuto a voi e voi potete essere d'aiuto a me e l'amore vero ha bisogno di una conoscenza della grazia di dio è di molta pratica la cosa che disse il fratello giovedì antonio ci disse che noi siamo abbiamo molta pratica molta teoria e poca pratica qui l'apostolo giovanni l'apostolo dell'amore ci dice che noi dobbiamo essere non solo uditori ma anche facitori e giacomo fa un esempio nella parola e dice l'uditore ascolta ascolta poi dopo va si va a vedere nello specchio vede la sua faccia e dopo un poco si dimentica la sua faccia com'era mentre il facitore è colui che mette in pratica ciò che è la parola del nostro signore è la parola principale abbiamo cantato abbiamo sentito ma se non c'è amore di un verso gli altri come puoi tu come puoi uno di noi uno di noi amare non amare cioè uno che non ama un fratello che gli è vicino una sorella che è vicino può amare dio che non l'ha visto io penso di no perché se noi amiamo colui che c'è vicino automaticamente possiamo amare il signore che non lo vediamo e come ha detto Gianni però dobbiamo credere che il signore possa operare come abbiamo sentito per il ragazzo se si è pregato per il ragazzo il ragazzo aveva bisogno di un'operazione il signore ha provveduto che non doveva essere toccato solo mettere delle gocce non l'hanno sfiorato nemmeno quindi è molto importante credere nel signore e di riflesso noi che cosa facciamo? credendo nel signore amando il signore pur non vedendolo possiamo amare i nostri fratelli e le nostre sorelle perché tutti uniti noi siamo una forza come ha detto Gianni le aquile però le aquile sono tutte quanti insieme riuniti fanno una forza noi dobbiamo essere sempre uniti mai isolarci mai quando siamo in un periodo che non siamo bene non è buono stare da soli a casa a pensare vabbè quello ha fatto così quello ha fatto così no tu devi venire in chiesa ti devi mettere in ginocchio devi pregare e devi dire signore dammi la forza signore fammi amare io lo dirò fino a farvi sentire male la parola amore perché la parola amore è la cosa più importante che ci sia se noi non abbiamo questo sentimento fratelli e sorelle noi non andremo mai avanti non faremo mai niente perché saremo solo esteticamente figlioli di Dio esteticamente credenti è nel bisogno è nell'amore che c'è la forza di Dio comunque per poi ampliare tutto il discorso voi potete leggere la prima epistola di Giovanni o tutto Giovanni l'apostolo dell'amore Giovanni parla solo di amore io non so perché il signore stamattina è già un periodo che mi ha detto di parlare d'amore forse sono un tipo che non sa amare il signore si dice no tu devi amare devi imparare ad amare amare tua moglie amare i tuoi figli amare i tuoi fratelli e le tue sorelle e io accetto quest'ordine perché questa è un'obbedienza da parte di Dio dunque ecco qua come dice Giovanni è un'obbedienza tu obbedirai i comandamenti di Dio quindi è un'obbedienza da parte nostra io mi devo portare il peso del fratello della sorella lo devo sentire mio e in effetti quello che umanamente versa più amore verso verso gli altri è una mamma la mamma quando il figlio sta poco bene di notte si sveglia a 5 6 7 volte per vedere il figlio come sa come si alzi io sfido a chiunque qualche uomo che non è mamma dice ma a me chi me lo fa fare io voglio dormire sono stanco invece l'amore della mamma verso il proprio figlio la porta pure se deve soffrire che sta male sta stanco si alza va e ama il proprio figlio come ha fatto il Signore che ha portato la croce per tutti quanti noi per i nostri peccati per tutti e ci ha perdonati ci ha amati una parentesi piccolissima Simone il Cireneo che ha portato il peso per poco dei nostri peccati aiutando il Signore Gesù non volendo si è portato il peso io non dico che anche noi ci dobbiamo portare la croce come ha portato Simone il Cireneo ma portiamoci il peso fratelli e sorelle l'amore l'amore è una cosa importantissima l'amore scioglie tutto l'amore ti porta ti porta a vedere i difetti del fratello diversamente non sono difetti li vedi come pregi perché se noi se noi umanamente non vediamo vediamo queste cose vediamo che i difetti del fratello non andremo mai avanti noi lo dobbiamo vedere con amore per quello che cos'è per che cos'è il fratello per quello che mi può dare ripeto ma senza avere niente in contraccambio perché a volte noi se vogliamo fare una cosa perché vogliamo incontrare il campo forse quello mi dà qualcosa in più un saluto una cosa no fratello non è questo l'amore ameno poi come ho detto prima l'amore ha bisogno della comunità se siamo tutti quanti insieme l'amore è diverso ma se io mi voglio voglio stare da solo non andrò mai avanti non faccio niente noi dobbiamo risolvere insieme il problema il problema l'ansia le malattie tutte quelle che noi abbiamo si risolvono insieme si parlano se un fratello e una sorella confida siamo zitti preghiamo per il fratello e per la sorella senza parlare senza sparlare è un periodo che si sparla troppo anche 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 nelle comunità si sparla troppo no finiamolo con queste cose si deve finire dobbiamo tacere dobbiamo solo ripeto amare amare poi veniamo un po' anche se Dio ci ha creati a noi in un modo diverso ognuno di noi siamo fatti in un modo diverso egli sa i nostri problemi i nostri bisogni le nostre ferite ma il disegno di Dio è quello di fruttare il conflitto che abbiamo in ognuno di noi e questo serve per aiutarci a crescere come ho detto prima siamo fautori della parola di Dio dobbiamo essere tutti quanti insieme tutti unite e ancora nella pistola di Giovanni al capitolo 4 al versetto 20 le persone che non amano gli altri credenti che hanno visto non posso amare Dio che non hanno visto questo ce lo dice Giovanni non l'ho detto io stamattina dunque dunque se non proviamo amore verso gli altri e se siamo concentrati solo verso il nostro bisogno ci dobbiamo interrogare se realmente Cristo è entrato nella nostra vita un cuore trasformato da Cristo è un cuore che ama e se noi abbiamo dubbi sulla nostra salvezza ci dobbiamo chiedere amo davvero i fratelli amo davvero i credenti se non abbiamo frutto ci dobbiamo analizzare fratelli e sorelli dobbiamo analizzare su quello che facciamo io in questi giorni ho ascoltato quello che era la la testimonianza di mio figlio Simone che sta in Sardegna lui tempo fa la sua testimonianza disse io credevo di stare con il Signore credevo di amare credevo di fare certe cose ma non era vero perché facevo sempre delle piccole cose che mi bloccavano e mi tenevano da ciò che era l'abbraccio globale del Signore l'amore verso il Signore quando ha realizzato veramente l'amore verso Dio e credere verso il Signore è stato benedetto il Signore subito gli ha fatto passare cioè è passato ha passato il concorso ha vinto il concorso nei carabinieri è andato avanti adesso sta in Sardegna quindi fratelli e sorelle è importante molto importante realizzare se crediamo se crediamo o non crediamo nel Signore se speriamo o non speriamo del Signore se nella nella tribolazione nella malattia ci preghiamo incinocchiamo e ci Signore guarisci Signore aiutaci possiamo farlo pure così seduti Signore e non abbiamo niente l'importante è credere avere un rapporto diverso da quello che abbiamo adesso dobbiamo sentire dentro di noi un qualcosa di diverso stamattina cioè un qualcosa che ci porta veramente a vedere ciò che è il viso l'amore che è la forza da parte di Dio non possiamo stare aspettando sì vabbè for domani for domani cerco di cambiare dopo domani vediamo un po' voglio vedere prima le mie cose no tu li devi vedere stamattina stamattina è il tempo accettivo per cambiare per cambiare totalmente no parzialmente noi dobbiamo essere come si dice nel gergo moderno cento cento no dieci cento dobbiamo essere cento cento tutti quanti per amore del Signore perché il Signore questo è quello che vuole da noi vuole prettamente come lui ci ha amato vuole che noi amiamo lui e amiamo gli altri e io stamattina stamattina voglio dirti anche questo credi che Dio ti ama e ti abbia che ha creato per compiere il suo scopo credi di non essere un caso credi di essere stato creato per l'eternità credi che Dio abbia scelto per avere una relazione con Gesù credi con tutto il tuo cuore che Gesù sia morto sulla croce per te e che Dio le abbia risuscitato dai morti e nonostante tutto quello che hai fatto nel tuo passato Dio vuole perdonarti ci credete in questo ma è un amen come ha detto Giovanni prima solo per stare un po' è un amen fatto con il cuore detto con il cuore ci credete fermamente voi in tutto questo? dietro non ho sentito ancora più fuoco possibile? amen forte forte come dice il fratello della tenda dobbiamo essere fuocosi quando si parla del Signore c'è il fuoco non c'è la mosciaria amen perché se noi dite amen il Signore ti benedice amen piano piano se tu dici amen l'amen del Signore la risposta del Signore è ben più forte ci dobbiamo svegliare a volte ci facciamo prendere forse il caldo eppure qua siamo ben attrezzati con i condizionatori in altre chiese sta sta il fuoco fratelli e sorelle il Signore il Signore è gioia bellezza dobbiamo essere felici è forza non dobbiamo stare qui amen no cantare con gioia saltare dalla sede dobbiamo saltare come delle cerve se no che cantiamo fa la cerva che sale sui mondi l'acule che vola che facciamo i passeri solitari non è qua Dio vi benedico voglio dirvi un'altra cosa e vorrei che vi alzasse non so forse è stato brevissimo ma purtroppo sono delle mie prime esperienze voglio darvi solo quello che io ho sentito nel cuore senza aggiungere altro vorrei che che pregasse pregasse con me questa preghiera che è molto importante allora dicevi Gesù la ripeteste con me anche se dal vostro posto a bassa voce ad alta voce come volete fare però l'importante è che la facciamo tutti quanti dicevi Gesù nella tua vita come tuo Signore e Salvatore diciamo il suo perdono per i suoi peccati chi crede accette il figlio ottiene ogni cosa vita completa o eterna Gesù io credo in te e ti ricevo in me il tuo spirito entrerà nella tua vita e ti darà la forza di amare gli uni gli altri secondo uno standard divino fratelli e sorelle facciamo entrare di più il Signore nella nostra vita apriamo il nostro cuore non facciamo entrare solo la mano i piedi tutto tutto il Signore c'è spazio nel nostro cuore per il Signore anche se sei piccola di staturo oppure se alti il Signore una volta che è entrato lui si prende un piccolo spazio ma in questo piccolo spazio del tuo cuore ti dà una forza ti dà un amore ti dà una voglia di andare avanti a superare tutti gli ostacoli perché noi noi da soli non superiamo niente è lui che ci aiuta a superare le malattie è lui che ci aiuta a superare gli ostacoli è lui che ci aiuta a superare la lontananza dei nostri figli i problemi dei nostri figli i problemi che non abbiamo il marito o la moglie credente fratelli è semplice è semplice fare entrare il Signore Gesù nel nostro cuore questo è il segreto è il segreto è la cosa importante ci vuole un po' di tempo per realizzarlo ci vuole un giorno due giorni ma realizzatelo realizziamolo perché è importante fratelli noi quando usciamo qua fuori non siamo nessuno qua siamo una forza ecco qua viene il momento che ci viene un momento di stare insieme di una gioia ma fuori là disuniti non siamo niente è lui che se sta con lui e sta in comunione con il Signore tu ricevi la forza e non hai paura di nessuno puoi affrontare tutto ciò che è fuori tutto quello che è fuori tutto ciò che che il mondo ci vuole per abbatterci che ci vuole distruggere ci vuole sconfiggere giorno per giorno non lo so sono tanti problemi che stanno esternamente senza il Signore siamo abbattuti cadiamo come i birini con il Signore abbiamo le radici che ci mantengono a terra quelle radici forti cementati che ci fanno andare avanti che ci fanno vedere tutto ciò anche se è male ce lo fanno vedere buono e continuiamo continuiamo nella nostra vita questo è il segreto questo è quello che io stamattina ho cercato spero che il Signore abbia toccato i vostri cuori vi abbia fatto capire quello che io ho voluto dire l'amore l'amore è una cosa importante fratelli vi ripeto non ci stanchiamo di amare non ci stanchiamo se viene un fratello una sorella più di una volta ci chiama ci parla ci dice le cose siamo insieme preghiamo e lasciamo stare tutto lo sparlare non sparliamo lasciamo stare tutte queste cose queste cose sono cose del mondo se noi siamo come le acule siamo diversi dagli altri dobbiamo essere diversi diversi dagli altri ma diversi trasparenti e puliti se tu c'è un problema con un fratello con una sorella te lo chiami ci parli vi aprite ci apriamo parliamo ecco come è bello come è bello quando si parla si parla in faccia si parla a quattro occhi senza una parola che arriva arriva come lo tsunami parte piccolino e poi arriva un'ondata grande che ti distrugge questo non deve avvenire calmi tranquilli semplici con la presenza di Dio si può ogni cosa Dio vi benedica e gloria a Dio amén grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti